L'unica cosa che serve all'Italia, ma servono alle famiglie, alle imprese, a coloro che stanno perdendo drammaticamente ancora il lavoro, è uscire il più rapidamente possibile da questa crisi che ci ha preso da cinque anni. Ci sono dei primi barlumi di ripresa. Sarebbe dai responsabili tornare alle elezioni, ma altrettanto sarebbe dai responsabili non fare le cose concrete che i cittadini ci chiedono. Questa è la vera sfida. Che cosa deve fare effettivamente il governo in questi primi 60 giorni del prossimo anno? Dovrà continuare nel dare segnali innanzitutto sulla diminuzione della pressione fiscale. Finalmente si riconosce che otto mesi di lavoro del nostro governo ha portato alla diminuzione della pressione fiscale per le famiglie. Questo è un grande risultato. 4 miliardi e 800 milioni di euro di tasse in meno sulla casa non sono parole, sono fatti. Ci siamo impegnati con la legge di stabilità a diminuire rapidamente il costo del lavoro per le imprese, ma innanzitutto anche a dare più risorse in busta paga agli operai. E la terza cosa è, e questo è quello che noi chiederemo come nuovo centrodestra nel contratto di programma che faremo con Renzi, dare una mano seria e solida alle famiglie. Ministro Letta ha parlato del contratto di coalizione, ma ci può spiegare che cos'è? Con Renzi chiederemo con forza nei prossimi 15-20 giorni non di mettere 20 punti, di darci 5 priorità e su queste 5 priorità di dire quando queste priorità saranno portate in Parlamento e quando diventeranno leggi e segnali concreti.